Quando avevo circa 14-15 anni, ho fatto una meravigliosa scoperta. Ho scoperto che ciò che era rinchiuso in me era infinito. Che potevo scendere giù nel profondo del mio animo e continuare a trovare, e trovare, e trovare. E che in fondo tutti erano come me, che le potenzialità, le capacità, la grandezza che ognuno di noi possiede come essere umano, sono assolutamente impensabili, inimmaginabili. E questo ho cercato di trasmettere con la mia danza. E questo ho cercato di trasmettere con la mia danza. Lo vedi come mi sta fessando? E questo ho cercato di trasmettere con la mia danza. Questa è una prima. Se non vi concentrate, avrete veramente qualcosa di cui preoccuparvi. Ok. E questo ho cercato di trasmettere con la mia danza. E questo ho cercato di trasmettere con la mia danza. Grazie a tutti.